Coca-Cola presenta il concorso del secolo, il più grande, il più atteso, con le lattine Coca-Cola per Italia 90, 1000 Y10 in palio. Se sotto la linguetta, no, no, quella di queste lattine Coca-Cola, trovi questa scritta, partecipi all'estensione delle 1000 Y10. Ma c'è di più, ci sono anche 100.000 borse termiche in palio. Sensazionale. Straffa e vinci con il concorso del secolo Coca-Cola. Grazie.